La retinopatia diabetica è una grave forma di alterazione della retina di natura metabolica. Il diabete colpisce circa il 4% della popolazione in un paese come l'Italia e quindi ci sono tante persone malate. Queste persone possono sviluppare una serie di alterazioni a carico dei vari organi. Il diabete è una malattia in cui per un errore del metabolismo i livelli di zucchero nel sangue sono troppo alti e l'insulina endogena prodotta dal soggetto non riesce a abbassare tali livelli. Lo zucchero nel sangue in maniera eccessiva viene eliminato dal corpo tramite le urine quando supera una certa soglia ma permanendo nel sangue crea una serie di danni all'interno del microcircolo. Il microcircolo è praticamente formato dai capillari. I capillari che servono per irrorare tutto il nostro corpo cominciano ad avere una microangiopatia. La microangiopatia diabetica è una malattia specifica del microcircolo. Ossia i piccoli capillari cominciano a chiudersi, a obliterarsi, a non funzionare in maniera corretta. Questo genera una cascata di effetti tra cui l'ischemia locale a livello dei vari organi. Quindi gli organi più colpiti nel diabete sono i reni, sono il cuore, sono i nervi e sono soprattutto l'occhio. L'occhio che ha una caratteristica che nessuno di questi altri organi ha, che è quello che può essere analizzato senza dover essere tagliato, senza dover essere scannerizzato con TAC, risonanze magnetiche o altre diagnostiche per immagini. L'occhio può essere analizzato con un semplice oftalmoscopio, con una semplice telecamera. Quindi i pazienti diabetici vengono sottoposti, vanno sottoposti a controlli oculistici seriali, in ambulatori specializzati, per cercare di capire se ci sono anche i primi segni di retinopatia diabetica. La retinopatia diabetica si presenta con alterazioni del microcircolo, quindi con una riduzione della quantità di sangue che arriva nell'occhio. La quantità di sangue che arriva nell'occhio viene rilevata dall'oculista con dei segni patognomonici specifici, ossia l'oculista può capire che grado di retinopatia diabetica sta affliggendo, attaccando l'occhio del paziente. Questo serve per dare una prognosi, quindi per capire come sta andando la malattia diabetica, e soprattutto per preservare la vista del paziente, perché la retinopatia diabetica è una delle principali cause di perdita della vista nel nostro mondo occidentale, moderno, evoluto. Ecco quindi che il paziente che si presenta dall'oculista deve eseguire un esame oftalmoscopico, diretto o indiretto, eseguito in seduta stante dall'oculista, che poi deve richiedere una retinografia, che è di routine ormai nei paesi anglosassoni e deve esserlo anche nei nostri, che serve a documentare lo stato di salute della retina del paziente. Altro esame che non può non essere fatto è l'OCT. La tomografia a coerenza ottica serve per capire quale è lo stato di salute della zona centrale della retina, quindi se comincia a esserci una sofferenza della retina stessa con dell'edema. La retinopatia diabetica causa delle alterazioni che si chiamano microangiopatie, quindi delle alterazioni del microcircolo con emorragie, microneurismi e dessudazione, cioè all'interno dei vasi il sangue circola poco, circola male e tende a fuoriuscire dalla parete dei vasi che perde la propria capacità di trattenere i liquidi. Quindi uno dei segni patognomonici principali è l'emorragia, gli essudati, i microneurismi e soprattutto l'edema, cioè l'aumento di quantità di liquido che va a stagnare nella retina. La retina è una pellicola che serve per vedere, chiaramente imbevuta d'acqua funziona in maniera non corretta e quindi il paziente comincia ad avere dei sintomi. Non va curata la retinopatia diabetica quando dà dei sintomi, ma va prevenuta, quindi bisogna andare dall'oculista. L'oculista deve eseguire gli esami che abbiamo detto prima, che sono la retinografia e l'OCT e deve quanto prima indirizzare il paziente diabetico che sviluppa segni di retinopatia diabetica a un atto parachirurgico o chirurgico per preservarne la visione.